Ma tu quanta importanza dai a una parola data? Hai l'esperienza che qualcuno ti ha dato una parola e l'ha compiuta perfettamente anche a costo della propria vita perché la fede si basa sull'esperienza di una parola autentica, data e poi realizzata, compiuta Purtroppo oggi tante nostre parole sono buttate così a casaccio nei social anche i tanti ti amo che si dicono i fidanzati hanno meno valore dei muggiti di queste mucche che almeno quando muggiscono stanno dicendo qualcosa di autentico che hanno fame o che sono arrabbiate o quello che sia invece le nostre parole purtroppo hanno perduto valore e proprio per questo la fede traballa perché non abbiamo più cognizione, esperienza di che cosa sia una parola autentica del valore che ha una parola autentica perché la fede si gioca tutta sull'autenticità e la credibilità di una parola il centurione che era un soldato aveva dei sottoposti e lui stesso era sottoposto conosceva profondamente il valore della parola data il valore di un ordine da un ordine dipendeva la vita non solo dei suoi soldati del suo battaglione, del suo reggimento ma anche della città, della nazione per questo avvicinandosi al nostro Signore Gesù Cristo può dire non c'è bisogno che tu venga alla mia casa alla casa di un pagano a corromperti basta la tua parola perché una sola tua parola guarirà il mio servo ecco questa è la fede avere l'esperienza che la parola di Gesù Cristo ha potere la parola di Gesù Cristo, il Vangelo che la Chiesa ti predica anche oggi allora coraggio appoggiati alla parola di nostro Signore Gesù Cristo l'unica parola credibile perché è l'unica parola che si compie se Gesù Cristo ti dice ti amo l'amore di Gesù Cristo arriva alla tua vita e la cambia radicalmente l'amore di Gesù Cristo come una nuova creazione fa nuove tutte le cose fa nuovo il tuo cuore e ti trasforma in figlio di Dio a immagine e somiglianza di Dio la parola di Gesù Cristo fa di te un santo capace di amare, di perdonare chi è accanto a te perché la vera rivoluzione il vero cambio nella nostra vita è il cambio del nostro cuore che diventa un cuore capace di amare in virtù della parola di Gesù Cristo e se il tuo cuore è capace di amare tutte le persone che sono accanto a te compresi i nemici la tua vita cambia da così a così la tua vita diventa un anticipo del cielo è il tuo cuore